Lo sportello del cittadino con Chima Ambiente Amiu, con il Presidente, l'Avvocato Giampiero Mancarelli, siamo nella stanza dei Bottoni nel cosiddetto centro di controllo e di monitoraggio. Momentaneamente in questi minuti in cui stiamo registrando i monitor sono spenti, ma fra un po' vi manderemo nella copertura del servizio le varie immagini molto significative di quelle che volgarmente sono state definite le fototrappola, ma che hanno proprio la funzione di controllare, di monitorare il territorio e di individuare, di fotografare gli sporcaccioni, chiamiamoli così, che hanno questo senso di inciviltà di abbandonare i rifiuti laddove invece non andrebbero abbandonati. Presidente, questo sistema delle fototrappole comunque riesce a individuare chi evidentemente danneggia oltre che se stesso la collettività. Dico se stesso perché se io faccio parte della collettività e danneggio la collettività, poi danneggio anche me stesso. Assolutamente sì, molto spesso io amo dire fatevi del bene, fate la raccolta differenziata, chi vuole bene a Taranto lo fa e da una parte noi stiamo raggiungendo con il vostro aiuto, con tante altre azioni anche di collaborazione con le parrocchie, con le scuole per l'avvio della raccolta differenziata. In altri casi invece servono le maniere forti e quindi questo è un'immagine. Diceva mio padre da buon napoletano, c'è un'espressione ora giusto per così, per sorridere un po', mazze e panelle fanno i figli belli, panelle senza mazze fanno i figli pazzi. Ora queste mazze e panelle intendiamo mazze, non certo la violenza ma la giusta repressione per chi infrange le norme. Sì questa è un'innovazione che ho voluto introdurre appena nominato che è quella di questo centro di monitoraggio e controllo che è un'innovazione anche nazionale che vede insomma chimambiente essere in prima linea anche con questo sistema di videotrappole e fototrappole. Noi stiamo elevando centinaia di sanzioni ed è necessario perché nel caso in cui vengano abbandonati degli ingombranti si tratta di 500 Euro, nel caso in cui vengono conferiti in orari andando in infrazione rispetto agli orari stabiliti dal calendario abbiamo 50 Euro e in questo contesto si arriva anche a raggiungere quindi la segnalazione alla Procura della Repubblica quando ci sono degli eventuali potenziali danni ambientali. Questo vuol dire cosa? Che bisogna voler bene al proprio territorio e volerle bene vuol dire anche avere rispetto del territorio circostante. Quindi chiediamo a tutti i cittadini di lavorare per Taranto, di essere corretti e la maggior parte dei cittadini lo sono, anzi mi permetterà direttore voglio ringraziare tutti coloro i quali invece ci fanno centinaia e centinaia di segnalazioni che hanno contribuito anche nella individuazione della locazione. Questo perché non perché noi amiamo la cultura della delazione ma perché chi è incivile e ritengo che sia la parte minoritaria della città però questi casi diciamo questi soggetti che non hanno rispetto del territorio è giusto che siano sanzionati e rieducati. Assolutamente così, ha ragione perfettamente, non si tratta di delazione ma di responsabilità diffusa. Noi da soli se i cittadini non ci aiutano possiamo fare poco. Le dieci cento mille azioni che possono essere in campo i nostri operatori saranno sempre minoritari rispetto a coloro i quali odiano la propria città e noi questo non possiamo permettercelo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.